Sesso negli spogliatoi sì o no? Sì! Beh, direi sì ma non mi è mai capitato. Quando diventi genitore sembra di perdere il senso dell'orientamento. Per fortuna però ci sono tanti amici conoscenti con cui confrontarsi per provare a costruire la propria dimensione di genitori. Io sono Diletta Leotta, mamma di Aria, e questo è Mamma Dilettante 2. E questa prima puntata della seconda stagione di Mamma Dilettante inizia con una mamma, anzi quasi mamma, meravigliosa, Federica Pellegrini. Ciao, ciao a tutti, ciao Dilla. Quasi mamma perché manca poco. Diciamo data indicativa 29 dicembre, quindi tra Natale e Capodanno. Tra Natale e Capodanno, ma questa cosa che nasce durante le feste ti piace come idea? Beh sì, mi piacerebbe onestamente tirasse avanti qualche altro giorno per essere una novella del nuovo anno, però sì, mi piace molto, poi deciderà lei insomma. Che poi il 30 dicembre comunque è una data importante per te. 30 dicembre è il compleanno della nonna, nonché mia mamma, quindi lei ti fa... Lei sarebbe felicissima. Lei sarebbe felicissima sul 30 dicembre, mio babbo invece dice eh no, 2024 anno olimpico, nasce sicuramente 2024, vedremo, vedremo, perché io sono nata nell'88, agosto 88 e loro si ricordano comunque di aver passato il primo mese, quindi tutto agosto, perché io sono del 5, e con me in braccio seguendo le Olimpiadi di Seoul 88, quindi insomma per mio babbo nasce ai primi di gennaio. Quell'imprinting già, già dritta verso le Olimpiadi. Vedremo. E come è andata la gravidanza? Raccontami, che esperienza è stata per te, visto che ormai praticamente sei quasi alla fine? È stato incredibilmente normale, nel senso che sono stata molto fortunata, perché non ho mai avuto problemi, mai avuto neanche mezza nausea, non ho mai avuto niente e quindi di fatto io ho passato otto mesi come se niente fosse, adesso invece la pancia comincia a essere insomma pesante, comincia a farsi sentire e quindi qualche piccolo acciacchino, qualche dormita strana, un po' di stanchezza sta arrivando solo adesso, però otto mesi devo dire dritti. Ma inizi a vedere i piedini quando si muovono nella pancia? Io mi ricordo che la toccavo la pancia e poi davo un calcetto, non so se era il piedino, il braccio. Sì, lei ha proprio i piedi già sotto le mie costole, quindi adesso proprio ha preso forza, io la sento già da quando ha fatto praticamente sei mesi, ha cominciato a sentirla proprio forte, soprattutto quando mi sdraio e quando mi fermavo, si faceva sentire tanto. Sta già nuotando lei, lei sta già facendo stile libero. Lei sta già nuotando, sì, sta battendo le gambe, però devo dire che adesso si vede che sta prendendo forza perché proprio ogni tanto mi dà delle botte incredibili. E il giorno in cui hai scoperto che eri incinta quando hai guardato il test di gravidanza, che sensazione hai provato? Ci abbiamo provato qualche mese prima che effettivamente arrivasse e l'abbiamo accolta come una bellissima notizia veramente, anche se all'inizio sempre un po' sul chi va là, nel senso che essendo una prima gravidanza, essendo che comunque ci abbiamo messo qualche mese, sai, i primi tre mesi sono sempre molto delicati, quindi non è che abbiamo gioito così tanto, man mano che passavano i giorni ci credevamo sempre di più e forse il momento più bello sta arrivando adesso. Questo è il momento più bello, cioè dove stai capendo che sta per succedere praticamente? Sì, perché quando sai, quando non hai problemi, non hai nausee, non hai stanchezza eccessiva, fai tutto quello che fai nella normalità delle cose, lo capisci effettivamente quando di fatto esplode questa pancia al settimo mese e mezzo, allora anche il papà adesso si comincia a rendersi conto che ci siamo. Che bello però, penso che sia veramente, questo è uno dei periodi più belli della tua vita, o c'è qualcosa di paragonabile a questo? Sono molto felice, questo sì, beh passo anche degli stati umorali abbastanza, sì, proprio up and down. Sì, totali. L'altro giorno ho pianto per una fine serie horror, quindi mi ricordo questo, Matteo è uguale, ma lo sai che abbiamo appena finito una serie horror e io che piangevo, no però lei che muore. Bellissimo, è così, tutto nella norma questo. Sì, 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 esatto. E attacchi di fame e violenti tipo di notte così improvvisi? No, quello no, quello no. Io sì da morire, tipo alle 5 del mattino mi svegliavo e svuotavo tutta la dispensa. Io speravo, speravo mi capitasse nel percorso di dover svegliare Matteo tipo alle 2 di notte, vai a prendere il gelato. C'è voglia particolari, non ne hai avute, magari ti verranno adesso. No, il primo periodo sai cosa, il primo periodo, i primi mesi, io che non l'ho mai bevuta, l'acqua a mezza e mezza, effervescente naturale, quella mezza frizzantina, un po' salatina, l'unica voglia che ho avuto è stata quella. E adesso ti è passata però? Sì, 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 è durata i primi mesi, al pari con il fatto di addormentarsi un po' dappertutto e poi è passato quello, di fatto no, non ho mai avuto voglie particolari. E io quando ho deciso di fare questo podcast ero incinta e ho detto sai che voglio parlare con delle ragazze, con delle amiche, capire un po' come tutte vivono queste esperienze, per me è stato proprio terapeutico. Immagino, infatti avrei un sacco di domande da farti adesso che sei dall'altra parte. Che non sono più così dilettante. No, esatto. A te capita di parlare con amiche, di confrontarsi, di chiederti un consiglio? Allora, passo dal voler essere super informata anche comunque tramite la volontà di fare un percorso anche con l'ostetrica che poi mi seguirà quel giorno, al fatto di voler vivere nell'incoscienza più totale. Sì, del non sapere. Sì, esatto. Io sono una persona molto istintiva, nel senso tutta la mia vita, anche tutto quello che ho fatto nello sport è venuto perché lo sentivo di pancia, perché lo sentivo che dovevo fare quella cosa, quella scelta, dovevo comportarmi in quella maniera. Quindi vorrei lasciare anche un po' un minimo spiraglio all'istinto. voglio essere preparata a conoscere quello a cui andrò incontro, anche perché comunque la volontà è quella di cercare di fare un parto naturale e quant'altro. Però dall'altro lato, secondo me, è una cosa talmente naturale che anche una piccola parte all'istinto vorrei lasciarla. Ma sì, ma secondo me anche per la tua attitudine allo sport, no? Che hai programmato tutto, hai sempre programmato ogni secondo della tua vita per ottenere un determinato obiettivo. Quindi forse ti viene naturale programmare? Beh, mi viene naturale programmare, però di fatto non abbiamo, questa volta forse per la prima volta non abbiamo programmato niente, no. La cameretta è pronta, per esempio? La cameretta è pronta, da pochissimo. Hai già comprato tutto. Anche la borsa dell'ospedale, mia mamma è da un mese che mi dice, ma lo sai che tu a sette mesi dovresti avere la borsa pronta per l'ospedale. La mia non ce l'ho ancora pronta, la sua è pronta. Ah sì? Sì, sì. A me la faccio mai butto dentro due magliette. Io anche mi sono fatta lasciare un po' dal trasportare dall'istinto, un po' da come veniva naturalmente tutto. E poi prima mi dicevi che ti piacerebbe fare il parto in acqua. Sì, l'idea è quella. Ovviamente poi possono succedere tremila cose. Mille cose, certo, mille variabili. Durante il parto e quindi già solo il fatto di dover fare un epidurale non ti consente poi di fare il parto in acqua, quindi vedremo. Però l'idea principale è quella che sì, mi piacerebbe non tanto per tutto quello che scientificamente è provato sul parto in acqua, ma proprio perché mi conosco in quell'elemento. Ti senti quasi più a tuo agio in quell'elemento. Mi sento quasi più a mio agio lì, sì. E come la chiamerete? Adesso la chiamate Meringa. Adesso la chiamiamo Meringa perché fondamentalmente non vogliamo spoilerare il nome a nessuno. Ah ok, però l'avete scelto. Sì, sì. E come è andata la scelta? Abbiamo scelto dall'inizio, fosse stato femmina sarebbe stato quel nome. Ah, quindi eravate subito certi del nome. Sì. Che non sarà Acqua. Io l'ho chiamata Aria. Che si è abbattuta orrenda, però vabbè, la volevo dire. Aria è un bellissimo nome secondo me. Ti piace Aria? Sì, sì, sì. Io quando ho scelto il nome stavo pensando a tutte le possibili problematiche che ci sono sulle varie prese in giro, perché ovviamente ce ne sono un miliardo, però comunque alla fine mi piaceva. Sì, su Aria? Sì, tantissime. Sì? Sì, sì, tantissime. Ok, va bene, mi fido. E c'è stato qualche momento divertente durante questa gravidanza, qualcosa che ti ricordi dove ti sei sentita un po' goffa, un po'... Ma adesso, adesso comincio a sentirmi veramente goffa, perché adesso comincio proprio a chiedere aiuto nell'alzarsi dal letto, nel girare, perché poi io a casa ho quattro cani e quindi di fatto questa bambina sul letto matrimoniale non ci salirà mai, ma proprio perché non ci sta. E quindi diciamo che le nottate adesso cominciano a essere interessanti perché io ho bisogno del mio spazio. Loro sentono che c'è qualcosa e i maschi l'hanno sentito subito, quindi li ho sempre avuti incollatissimi da Rocky, che è il maschio più grande, secondo me l'ha capito ancora prima che io lo capissi, perché da un giorno all'altro proprio l'ho visto attaccato e non mi mollava mai. E quindi sta diventando interessante perché poi durante le notti adesso mi sveglierò tre, quattro volte a notte per fare la pipì. Sì, mi ricordo anche il letto. Quello scappa tantissimo e quindi ogni volta che mi alzo li trovo tutti sul mio posto e quindi sposta uno, due, tre, quattro e comincia ad essere impegnativo. E come ti aspetti il ritorno a casa quando la presenterai ai tuoi cagnolini? Secondo me dovremmo stare attenti ad alcuni step, perché comunque i miei cani sono molto molto attaccati poi col fatto di sentire che c'è qualcosa che sta arrivando. E loro sono tipo figli tuoi praticamente. Sì, esatto. Ci hanno consigliato di portare a casa la prima tutina che lei userà dall'ospedale, di fargliela annusare. Sono molto curiosa perché poi il fatto che i miei cani hanno un bellissimo carattere, però sono in quattro, capito? Quindi lei sarà un esserino, spero, il più piccola possibile. Anche se non sarà così, però... Con te e tuo marito non credo. No, no, però vedremo. E invece a quanti anni pensi di metterla in acqua? Io vorrei provare il prima possibile. Il prima possibile? Sì. Beh, io sono entrata in acqua con i corsi proprio di ambientamento all'acqua per i neonati, quindi a meno di un anno. A meno di un anno già in acqua? Sì, in quelle vaschine calde, con i genitori e quant'altro, però io a meno di un anno ero in acqua. Perché è stato bellissimo anche il modo in cui hai annunciato la gravidanza su Instagram. Come ti è venuto in mente quel momento? Allora, diciamo che facciamo parte di un ambiente dove è difficile tenere le cose nascoste. Sì, certo. Io e Matteo volevamo cercare di tenere la notizia proprio più privata possibile, l'avevamo detto solo ai nostri genitori, però poi è arrivata l'estate, sono arrivati i bichini e la pancia da quattro mesi e mezzo comunque cominciava a vedersi. Io che sono sempre stata abbastanza piatta, si vedeva e quindi sono cominciate a uscire le prime indiscrezioni. Nel mentre c'erano i mondiali di nuoto a Fukuoka, dove molto probabilmente si pensava che il mio record del mondo dei 200 stile libero sarebbe stato battuto, allora abbiamo detto senti, facciamo questo video, ce lo teniamo lì, poi se batte il record lo tiriamo fuori in chiave ironica, prendiamo due piccioni con una fava, così l'abbiamo detto al mondo, siamo tutti felici. Esatto, è perfetto. L'abbiamo anche sdrammatizzato su questa cosa del record del mondo, senza nessuno che ti chiamasse dopo 30 secondi, allora com'è stato a vedere quest'atleta che batte il tuo record del mondo? Bellissimo! E quindi abbiamo unito le due cose. E come te lo immagini tu, tua meringa, la piccola meringa che possa raggiungere anche i tuoi stessi traguardi, i tuoi stessi obiettivi, nonostante immagino poi tutta la fatica, i sacrifici? Quella è una bella domanda perché nel mio piccolino spero che comunque lei abbia un bel feeling con l'acqua, però non voglio imporle una vita da atleta, non voglio imporle il fatto di guarda cosa ha fatto la tua mamma, potresti farlo anche te. Io ho molto paura di quell'aspetto lì e quindi sicuramente sarà una sportiva perché invece sul nuoto non è molto convinto il papà, lui punterebbe su altri sport, però l'importante è che sia una sportiva e poi deciderà lei. L'unica cosa sulla quale spingeremo molto è che faccia sport. Perché tu nel tuo libro, Oro, dici e difendi anche un po' questa tua nomea da stronzetta, cioè che tu sei sempre stata un po' stronza come atleta, però è fondamentale, cioè è necessario essere un po' stronzetti. Allora, diciamo che quello che non mi andava giù è essere definita un po' antipatica, soprattutto da persone che non ti conoscono personalmente, anche perché io ho cominciato a vincere veramente molto giovane, avevo 16 anni. Quindi a quell'età comunque già hai a che fare con i tuoi demoni personali e io tendenzialmente sono una persona che si chiude quando ha qualche problema, non è che si apre, non sono mai stata una persona super espansiva e quindi forse questa mia introversione era vista come, non lo so, come antipatia, sbagliando. Quindi questo forse è la cosa che mi ha sempre dato fastidio. Sul fatto di essere stronzetta nello sport ci vuole, nel senso ci vuole anche quella forma mentis di dire esisto io e nessun altro, altrimenti quel livello di competizione è difficile da leggere. E cosa vuoi che prenda da te Meringa e cosa da Matteo? Niente, è meglio che prenda tutto da Matteo. No, intanto sono molto contenta che abbia preso da me le gambe lunghe, perché sì, è quello già migliorato, è quello ok. Spero che prenda da me la determinazione, il fatto di essere fondamentalmente una donna forte, nel senso che indipendentemente da tutto quello che mi ha circondato, le scelte le ho sempre prese io in totale libertà. E questo forse è l'insegnamento che vorrei darle, più grande di tutte. Sì, è vero, hai fatto un post bellissimo dove hai detto voglio proteggerti, voglio che tu sia libera. Forse anche attraverso lo sport uno riesce ad insegnare, proprio a trasmettere questi principi così sani. Lo sport secondo me è una grandissima scuola di vita, nel senso che comunque lo sport al 90% delle volte forma degli esseri umani migliori, perché comunque ti dà effettivamente modo di avere a che fare con la vittoria, con la sconfitta, con il sacrificio, con la determinazione a tutti i livelli, perché anche se comunque sei un bimbo piccolo e devi affrontare la tua prima gara, comunque hai quel senso di un po' di emozione, un po' di ansia, il fatto di non voler perdere, la gioia di vincere, il voler arrivare lì pronto per… e quindi secondo me è una grandissima scuola di vita lo sport. E tu tra l'altro, diciamo, ancora non sei diventata mamma ufficialmente, manca poco, però comunque hai seguito dei bimbi con la Fede Academy e quindi sei già diventata un po' la mamma. È stato faticoso, eh? Com'è stata questa esperienza? Voglio dire che i corsi con i più piccolini che abbiamo avuto, alcuni avevano sei anni ancora da compiere e poi abbiamo tirato fino ai 18, però diciamo che i piccolini sono stati forse i più difficili perché poi ovviamente bisogna saperli gestire anche al di fuori proprio dell'attività sportiva, però è stato bellissimo perché c'è stato proprio questo passaggio di passioni, cioè siamo riusciti io e Matteo, perché questo è un progetto a cui abbiamo creduto tantissimo e che finalmente è partito quest'anno per la prima stagione, a trasmettere la nostra passione per lo sport ai piccolissimi e quindi quello secondo me è stata la cosa più incredibile, cioè vedere questi bimbi che sono arrivati timorosi quasi, che non riuscivano a guardarti negli occhi e andando via piangendo perché non volevano più andare via è stato incredibile. E che papà sarà secondo te Matteo? Allora quella è la mia domanda più grande nel senso che vabbè io sono sicura della persona che è Matteo, però sai la figlia femmina sposta un po' sempre gli equilibri, Matteo è una persona tutta ad un pezzo, è una persona che difficilmente si lascia andare alle emozioni e quindi secondo me... Però con te sembra dolcissimo Sì, è una persona dolcissima, però secondo me la figlia femmina cambierà molto Dici che lo rincoglioni reale? Beh io l'ho visto con mio padre, devo dire che ha cambiato molto Che è cambiato? Sì, 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 e quindi voglio vedere proprio come reagirà lui, sono molto curiosa E tu invece che mamma sarai? Che mamma pensi di essere? Non lo so, secondo me sarà un percorso, un viaggio, tutto da definire vivendolo Senza definirlo neanche più di tanto perché poi da quello che ho capito parlando con amiche e quant'altro è tutto soggettivo, è tutto veramente soggettivo Cioè sarei super protettiva? Non vorrei essere la mamma chioccia lì, sempre mamma ansia che guarda tutto quello che fa Cioè nella mia mente vorrei che lei si sporcasse, giocasse, si buttasse per terra, si buttasse in tutto quello che vuole fare con la massima libertà Ovviamente sapendo che ci sono dei genitori dietro pronti a sostenerla A proteggerla sempre Anche un po' perché quello penso sia l'istinto di tutti i genitori Sì certo, certo Fede è arrivato adesso un nuovo momento di questa seconda stagione di mamma dilettante che sono le parole peso Oddio Le parole peso nel senso quelle parole che a un certo punto nella vita di noi mamme prima o poi dovremmo ritrovarci a spiegare ai nostri figli e alle nostre figlie Oddio, oddio, oddio Quindi in quella ball ci sono alcune domande, pescatuna a caso Questa a blu Sì, questa a blu Pescare una a caso e vedi che parola esce Ho molta paura Allora Successo Allora Come io lo spieghi Cioè dovrai spiegare A Meringa Come glielo spiegherei a Meringa Ok Il successo, cara Meringa Penso sia Quando tu hai un obiettivo grande nella tua vita E vuoi raggiungerlo a tutti i costi Quindi quando tu arrivi a quell'obiettivo con un lungo viaggio Un lungo viaggio anche fatto di sacrifici Un lungo viaggio anche fatto di cadute Però ci arrivi Quella sensazione che provi è il successo Quindi è una sensazione bellissima Sì, direi di sì Però ci sono anche degli aspetti forse un po' faticosi dietro a questo successo Sì, però io gliela metterei in chiave positiva In chiave positiva, ovviamente Sì, sì Brava, sì esatto, ci sta Anche perché ti ricordi quando ci siamo conosciute la prima volta Fede, che eravamo a Trento Ci siamo conosciuti E io ti ho detto Fede, io volevo essere te Cioè io quando ero piccola volevo diventare Federica Pellegrini Beh, hai fatto la notatrice per un po' di anni Ho fatto la notatrice, sì Con risultati diciamo Particolarmente diversi e lontani dai tuoi Però era il mio sogno Poi a un certo punto mi sono accorta che era veramente un sacrificio incredibile fare questo percorso qua Beh, devo dire, secondo me, nel senso Ognuno di noi sceglie una strada in base alle proprie passioni Nel senso che è logico che io ho scelto di nuotare due volte al giorno per vent'anni della mia vita Perché avevo una grandissima passione in quello che facevo Altrimenti non l'avrei mai fatto E le passioni ci indirizzano, no? Poi quando riesci a trovare quella giusta per te Dai, anima e corpo Quando inizi a sentire quell'adrenalina che ti dà il successo Quello spriccicolo Che il successo ti dà Poi alla fine capisci che quella è la tua strada Però oggi sei felicissima, dai Cioè, sei di una bellezza Sei radiosa Cioè, è vero Quando sei incinta sei una fonte di luce Te lo dicono Ma infatti, sì, sì, sì Lo dicono continuamente Ma ridi sempre Ho detto perché prima, cavoli, non ridevo mai Ridi sempre, hai sempre questo sorriso Ma di notte ti capita di sognarla A me succedeva tipo verso la fine della gravidanza Che non era chiara il volto Però mi capitava di sognarla Cioè, di sognarla con me Tutte le immagini Come sarà Meringa Io l'ho sognata due volte Io lo sto chiamando Meringa Sì, sì, no, ma fai bene Sì, sì, ma anche Alla fine la chiameremo anche noi Meringa Alla fine le daremo il nome vero Ma alla fine siamo così abituati Nei nostri discorsi a chiamarla Meringa Che sarà Meringa Mi è capitato All'inizio della gravidanza Facevo dei sogni bruttissimi Non studi lei Però in generale dei sogni bruttissimi Poi invece si sono placati E adesso mi è capitato due volte Forse anche perché mi avvicino Anche perché comunque c'è una certa Preoccupazione a riguardo Due volte il parto proprio Una volta ci mettevo tipo 30 secondi Cioè mi accorgevo che stava succedendo qualcosa E me la trovavo in braccio Mi sono svegliata e ho detto Fede, mettitela via, non sarà mai così E un'altra volta la sognavo Però non riuscivo a vederla bene in faccia Anche perché nelle ultime due ecografie Che ho fatto Aveva le mani davanti Non sono mai riuscita a vederla in faccia Nelle ultime due Che magari era già formata Quindi sarei riuscita a vederla bene Perché è attaccata alla placenta Proprio attaccata Anche Ari era così Anche Ari era così Non sono riuscita a vederla E le nonne come la stanno vivendo? Bene Sono lontane Vivono lontane Quindi Poi però le vorrei vicine Vedrai Sì, no, no, no Sto scherzando Saranno due nonne Beh, la mamma di Matteo Ha già una nipotina Quindi è già rodata Invece mia mamma Diciamo che dopo quattro cani Lei sperava che prima o poi Arrivasse un figlio vero Un figlio vero Senza peli E quindi Aspettava già da anni Questo momento E quindi è felicissima È super emozionata Vorrebbe fare tre mila cose Mi ha fatto imbiancare casa Abbiamo tirato via le tende Pulito tutte le tende Tappeti Cioè più felice di te quasi Sì, sì, sì Più felice di me quasi Ma infatti Bisogna un attimo Placarla Placarla Sì, sì, sì Però che bello Che è così Sarà un'emozione No, ma poi sarà un sostegno Veramente indispensabile Indispensabile Perché Nella mia testa La volontà è quella Proprio di fare Un percorso Naturale Quindi Fare anche un percorso Di allattamento Importante Quant'altro E Quindi lei Sicuramente Che l'ha già vissuto Con due figli Sarà Sarà fondamentale Sarà un aiuto Sì, fondamentale Cioè l'amerai profondamente Viva le nonne Sempre Sempre Fammi fare una doccia Ti prego Esatto Esattamente così Sicuro E cos'è la cosa Oggi Da incinta Insomma Con questi anche Sbalzi umurali Pazzeschi Che ti rende Più felice Quando ci pensi E quella che invece Forse ti fa più paura Ma la cosa Che mi fa Più felice Sentirla In senso Sentirla Muoversi È qualcosa Che mi Mi dà coscienza Ancora di più Come Che Che ci siamo Che Che sta per Per avverarsi Un sogno Che sta per Nascere Una bimba Data Data dall'amore Di due persone Quindi È un sogno Veramente Che si realizza La cosa che mi fa Più paura È che Ci sono Tremila paure Secondo me In questo momento Poi Da quello che ho capito Con i bambini Così piccoli Va tutto bene Però Può andare anche Veramente Tutto Tutto male Può esserci Qualcosa che non va Io spero che Vada Tutto bene A livello di salute Poi per il resto Certo Ci penseremo È vero Adesso è il momento invece Delle domande scomodiche Ok Queste guarda Non dipendono da me Mi dispiace Sì quelle rosa Pescale Pescale tu Io non mi voglio assumere Nessuna responsabilità Su queste domande Scomode Ok Allattare in pubblico Sì o no? Eh Allora Allattare in pubblico Secondo me Sì Ma per Come sono fatta Io Forse Cercherei Un posto Riservato Riservato Ecco Mi darebbe fastidio Gli occhi della gente Addosso Mentre faccio Perché penso che L'allattamento In quel momento Sia un momento Molto intimo Poi a me Su di me Su di me Nel senso Che non so se io Riuscirei a vivermi Con tranquillità Con tranquillità Quella serenità Soprattutto se sei in pubblico Sai se sei a casa Non c'è problema Ovvio Però Per come sono fatta io Per il mio carattere Mi sentirei un po' Troppo osservata E mi sentirei In imbarazzo Ma so che è una cosa Sbagliata Però Non mi sentirei A mio agio Vai Prossima domanda Sesso negli spogliatoi Sì o no? Sì Beh Direi sì Ma non mi è mai capitato Proprio negli spogliatoi Anche perché di solito Negli spogliatoi Nella piscina C'è un sacco di gente Poi non sono insieme Sì Però di solito C'è anche un sacco di gente Poi i nuotatori si cambiano Non ci credo che non ti è mai capitato Neanche un bacetto Dai Negli spogliatoi Ma figo Un bacetto negli spogliatoi Mai capitato Io l'ho dato un bacetto Negli spogliatoi Quando facevo nuoto Ho capito Ma sei andata nello spogliatoio Degli uomini Allora Ma no Era tipo un corridoietto Bravo Stissi Brava Brava La capitava Tra un phon Un'asciugata Una cosa Un bacettino Mi è scappato A te mai No Negli spogliatoi Devo dire No Ci sono state Tante altre parti Dell'impianto sportivo Tra un'atleta vera E una che Poi ce l'ho già fatta Negli spogliatoi No Devo dire Non mi è mai capitato Vai Vediamo la prossima domanda Forse perché Quando finisci di allenarti Non vedi l'ora Di andartene Quindi No Fede tu Perché eri troppo focalizzata Ovviamente Solo sullo sport Giustamente Sugli obiettivi Oh Questa è veramente scomoda Ragazzi Allora Qual è? La piccola Potrà uscire Col suo allenatore Che cattivi Dai Questa è cattivissima Questa è cattivissima Questa è cattivissima Allora Ovviamente non da piccola Certo Non da piccola E dipenderà Dipenderà Da quanti anni ha il suo allenatore Ovviamente Ma a te come è scattato poi Quella scintilla Cioè come vi siete Innamorati Allora Io Uscivo da una storia Importante Di tanti anni Non avevo mai visto Matteo sotto Quell'ottica E quindi Ho cominciato In quel momento A vederlo sotto Un'ottica Completamente Diversa E di fatto Per la prima volta Nella mia vita Sono io Che mi sono lanciata Nel vuoto Perché lui invece Me l'ha fatta sudare Davvero? Mamma mia Sì sì Ma dai Non ci credo Ti giuro Ma perché lui Era una professionale Voleva mantenere Un stacco Voleva comunque Sapendo comunque Come gira nel nostro mondo Chiacchiericce E quant'altro Voleva evitare Assolutamente Di Di sporcarsi La sua immagine D'allenatore Per una cosa Che magari In cui non credeva Al cento per cento Si vede che Quando poi Ha capito Che sarebbe stata Una cosa importante Poi Si è lasciato andare O si vede Che aveva a che fare Con una donna Abituata A prendersi tutto E quindi Non poteva Non ci sai Quindi prima o poi Doveva andare a finire così Cioè non aveva opzioni No forse C'hai ragionato Secondo me Hai lavorato bene Anche tu Sì 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 Perché immagino Che sei Però ci ha voluto tempo Eh Beh meglio Sì sì Perché ti ha fatto Un po' sforzare Cioè poi è diventato Un obiettivo di vita Immaginavo Immaginavo Però Però ci ha voluto tempo E adesso però State per realizzare Uno dei sogni più belli Diventare genitori È bellissimo Devo dire che è un momento Incredibile Sarà Incasinatissimo Perché lo sappiamo già Perché comunque Con il lavoro di Matteo I quattro cani E quant'altro Sarà un periodo Incasinatissimo Però in qualche modo Ce la faremo Grazie Fede Grazie a te Grazie mille È stato bellissimo Grazie Auguri a te Meringa e Matteo Grazie 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 a te Grazie a te Grazie a te Grazie a te Grazie a te